si 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 e si berlusconi sta a casa mia sto facendo un video con lui saluta berlusconi ciao ragazzi c'è se ve lo dico io c'è è vero c'è sono c'è sono hai visto ragazzi c'è e gas comunque siamo rimasti siamo su strange adventure eravamo rimasti qui ma avete detto che qui ah no 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 non è che me l'avete detto l'altra volta in quell'altro episodio c'è così dovevi saltare del minimo tipo tre volte qui sopra e si rompeva via verso le infinite altre ok si sono cambiati i tasti perfetto perfetto io non trovo questo via minchia no che cazzo vai no si no si no vai cacchio me porca di quella troia uno due tre minchia vai 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 ok la posso fare ce la si può fare qua cade giusto si si che cazzo minchia ma come che cazzo ma che cosa no di quello mamma minchia sì uno due tre sì vai sì sì ce la si può fare ce la si può fare ok qui so che cade ormai quindi salto sì 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 la bandiera la bandiera sì 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 qui cade non sono certo no che cazzo what the fuck prima guardate ci sono e non cade guarda ma che minchia boh l'avevo detto l'avevo detto che cazzo come si fa minchia non è possibile dai 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 vai sì ho capito ho capito ho capito ho capito qui il soprassalto della madonna via via sì sì no no madonna no 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 via ma cazzo prima non c'era no ma non c'era prima minchia ok capito sì poppa così via non prendere la leva non prendere che ok no che cazzo che figata ok un ultimo salto perfetto ragazzi usate la B no no what's the most I'm sorry man is worth e che non è David Beckham non è George gioconi tutti si sapevano non è Steve Jobs non lo è e non è slime chi è slime madonna madonna ti salto in faccia te lo giuro ti salto in faccia minchia madonna aspettate no si deve levare questo no salto in faccia stronzo di merda ma che cazzo what the fuck what the fuck you what the fuck you bitch the mother fuck si si poppa cos'è questo con denogativo è impossibile e dai però non lo mettono mai in cubetto quando serve no che bug ma un bug muori tua madre è sporca ah ho capito si giusto devo morire qua e poi mi sembra dovrebbe riapparire si riappare come sfruttare il proprio cadavere se facevi in modo giusto si si e come faccio quando ci arrivo di là minchia non lo so mi sono infinito si si corri run corri no minchia è più veloce lui vabbè no che cazzo è successo non lo so no no aspetta devo fare anche una cosa e se non le prendo le scarpe se non le prendo le scarpe ma minchia vado più lento è meglio che le e ho delle blazer ho delle nike supermodello vai si vai che figo ho fatto bene raga visto che già l'altra volta l'ho fatto io lo salto questo vi prego non me lo fate fare minchia non è questo è questo no è questo si no che cosa è successo madonna dove cazzo me lo va a mettere che cosa vuoi tu ma sono sbagliato sbagliato tutto crevolo crevolo santo crevolo santo crevolo santo perché va così lento adesso pareva suca che cazzo fantasmini del cazzo madonna so madonna mi scordo minchia di quelle botte ti deve morire la famiglia la nonna e tutti i parenti che ti sono vivi si la pistola prendi la pistola si come faccio come faccio come faccio vabbè raga io finisco qui il video rompendo questo muro che ormai non si rompe più e ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi e iscrivetevi condividete e mettete un like ciao ecco